Buongiorno a tutti, oggi parleremo degli animali vertebrati, ovvero gli animali che sono dotati di vertebre e quindi di colonna vertebrale. Come abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, la vita animale sappiamo che è nata in acqua e appunto dopo aver parlato degli invertebrati, adesso appunto parliamo di quest'altro grande gruppo in cui si suddividono gli animali che sono i vertebrati, che sono comparsi sulla terra centinaia di milioni di anni fa e appunto i primi vertebrati erano appunto acquatici. Poi si sono mano a mano evoluti conquistando anche la terraferma e si suddividono in queste cinque classi, che sono appunto i pesci, da cui poi una piccola parte si è evoluta in anfibi, dalla quale un altro piccolo gruppo si è poi evoluto in rettili, dal quale si sono evolute ulteriori due classi che sono gli uccelli e i mammiferi. Ecco le nostre cinque classi di vertebrati. Dunque i vertebrati sono un gruppo numeroso, molto numeroso, si contano ad oggi 64.000 specie fino adesso scoperte, quindi sicuramente ne verranno scoperte altre, e questi vertebrati appartengono al grande filum dei cordati, ovvero gli animali che possiedono una corda dorsale. Facciamo un piccolo ripasso per quanto riguarda le categorie sistematiche, quindi noi stiamo affrontando il dominio degli eucarioti, siamo nel regno degli animali e appunto il regno degli animali si suddivide in filum e adesso appunto andiamo a affrontare quello dei cordati, che a sua volta si suddivide in subfilum, che è quello appunto dei vertebrati, e così via, appunto poi abbiamo le classi che abbiamo visto, qua c'è l'esempio della classificazione dello scimpanzè, che quindi appartiene poi alla classe dei mammiferi, che si suddivide a sua volta negli ordini, eccetera, eccetera. Era semplicemente per ricordarci appunto le nostre categorie, ecco come si suddividono, quindi il filum è un sottogruppo del regno. Dunque, andando avanti a vedere appunto quali sono le caratteristiche quindi dei vertebrati stavolta, a differenza degli invertebrati che hanno soltanto l'esoscheletro, quindi uno scheletro esterno, i vertebrati hanno invece un endoscheletro, ovvero uno scheletro che sta all'interno, che è composto da ossa e cartilagine. Esternamente i vertebrati hanno uno strato che li ricopre e si chiama pelle. La pelle che a sua volta può essere rivestita da diverse strutture, come le penne e le piume, ad esempio negli uccelli, i peli nei mammiferi, le squame nei retti e le scaglie, ad esempio nei pesci. I vertebrati hanno anche alcune caratteristiche particolari, si suddividono a seconda della temperatura corporea in omeotermi, ovvero gli animali cosiddetti a sangue caldo, che sono quelli che riescono a mantenere la temperatura del loro corpo costante indipendentemente dall'ambiente esterno. Questi animali sono gli uccelli e i mammiferi. Mentre gli animali eterotermi sono i cosiddetti animali a sangue freddo, la cui temperatura corporea invece varia in base alla temperatura ambientale. Sono animali a sangue freddo i pesci, i anfibi e i retti. Infatti, non so se avete mai visto in giro sicuramente, le lucertole che praticamente prendono il sole proprio perché devono regolare la propria temperatura e quindi cercano di stare o esposte ai raggi solari o anche su rocce che sono state esposte al sole e quindi emanano calore, rilasciano calore. Per quanto riguarda la nutrizione, abbiamo visto nelle scorse lezioni che si possono classificare in carnivori, ovvero gli animali che mangiano altri animali e per questo hanno dei canini che sono chiamati zanne, che sono proprio adatti a strappare la carne. Poi abbiamo gli erbivori che invece mangiando vegetali i loro denti si sono adattati a schiacciare, appunto, a triturare al meglio l'erba. Poi ci sono anche una parte di animali acquatici che sono detti filtratori poiché filtrano proprio le sostanze nutritive dall'acqua. Chiaramente esistono anche animali onnivori che sono sia carnivori che erbivori. Dunque, andiamo quindi a vedere più da vicino, ad approfondire il primo gruppo o, se vogliamo utilizzare il linguaggio scientifico, la prima classe di vertebrati, che sono i pesci. Come vedete, i pesci possono avere un scheletro osseo come quello dei pesci più grandi, per esempio tonni o trote, oppure cartilagineo, come ad esempio gli squali e le razze. hanno un corpo che è rivestito, abbiamo detto, di scaglie ed hanno solitamente questa forma affusolata che è una forma idrodinamica quindi permette e favorisce il movimento in acqua. Respirano per mezzo di branchie che filtrano l'acqua e quindi da questa riescono a filtrare l'ossigeno e si muovono grazie a diverse strutture. Allora, per quanto riguarda i movimenti in avanti, a destra e a sinistra si muovono per mezzo della coda e delle pinne mentre per quanto riguarda i movimenti in alto e in basso si riescono a muovere grazie alla vescica natatoria che è praticamente un serbatoio pieno di gas grazie al quale riescono a controllare il loro galleggiamento quindi dovete immaginarlo come una sorta di palloncino ripieno di gas che a seconda che si gonfia o si sgonfia permette al pesce di salire o di scendere in acqua. Molti pesci però non hanno questa vescica natatoria quindi devono muoversi continuamente per non andare verso il fondo un esempio di questi pesci sono anche alcune razze di squali infatti non si fermano mai proprio perché altrimenti andrebbero sul fondo ed anche perché, un'altra cosa importante non avendo la capacità di attirare l'acqua nella bocca sono costretti a continuare a muoversi per far sì che l'acqua entri nella loro bocca e quindi poi venga filtrata dalle branche ecco non riescono ad aspirarla per questo che alcune razze di scuola appunto non si fermano mai nemmeno quando dormono qua ho inserito un link video che lo potete cliccare dal file pdf per quanto riguarda l'apparato circolatorio dei pesci è di tipo chiuso ovvero il sangue circola solamente nei vasi non esce mai al di fuori e la circolazione è di tipo semplice e completo perché il sangue è praticamente venoso eccolo qua in blu ed arterioso come vedete non si mischiano mai sono separati ecco e poi vanno a ossigenarsi chiaramente attraverso le branche vedete questo è il sangue che dal cuore viene pompato alle branche si ossigena e ritorna al resto del corpo la riproduzione dei pesci è di tipo sessuato quindi la femmina depone le uova con le qua gelatinose che hanno vedete questa forma in acqua e il maschio successivamente le feconda quindi si parla di una fecondazione di tipo esterno la maggior parte dei pesci quindi è ovipara ma ci sono ancora anche alcune eccezioni che possono essere esempio ovovivipari o vivipari la seconda classe di vertebrati che affronteremo oggi sono gli anfibi gli anfibi sono stati i primi animali a conquistare la terraferma e la parola anfibi significa proprio doppia vita in quanto questi animali trascorrono una parte della vita in acqua e una parte sulla terraferma vivono chiaramente in ambienti umidi come paludi o stagni perché poi la riproduzione è legata strettamente all'acqua si suddividono alcuni gruppi in urodeli principalmente quelli che hanno la coda come i tritoni, vedete le salamandre e l'axolot che dopo andremo un attimo a approfondire e gli anuri che non hanno la coda quindi ad esempio la raganella, il rospo hanno una pelle nuda si dice, ovvero è priva di protezioni che deve costantemente mantenersi umida la respirazione avviene sia per mezzo di branche quando gli individui sono giovani ad esempio girini e quindi vivono in acqua e attraverso i polmoni negli adulti spesso non è sufficiente la respirazione tramite i polmoni a fornire l'ossigeno necessario quindi gli anfibi riescono a respirare oltre che attraverso i polmoni anche attraverso proprio la pelle e questo tipo di respirazione è detta respirazione cutanea altre caratteristiche degli anfibi abbiamo detto che sono eterotermi ovvero animali a sangue freddo hanno una riproduzione di tipo sessuata quindi come vedete qua c'è l'esempio della rana dalle uova fecondate si sviluppano i girini che nell'arco di 3-4 mesi svolgono proprio una metamorfosi ovvero perdono, cambiano la forma perdono le caratteristiche tipiche degli animali acquatici quindi la presenza di queste branche la forma appunto allungata che è idrodinamica e assumono via via quelle degli animali terrestri quindi compaiono le zampe e inizia la respirazione polmonarie il girino appunto come vedete per muoversi si utilizza la coda mentre l'adulto utilizzerà le quattro zampe perché appunto gli anfibi solitamente hanno quattro zampe e di cui le posteriori sono palmate per facilitare il nuoto ho inserito alcune particolarità di questa classe ad esempio che le rane vedono a 360 gradi quindi hanno questi grandi occhi che sono disposti vedete sul capo in modo anche sporgente e questo vi permette di vedere veramente un ampio spazio ma riescono a riconoscere solamente gli oggetti in movimento inoltre ho riportato questo esempio come vedete questo animaletto abbastanza anche simpatico che è comunemente chiamato Axolot e il nome scientifico sarebbe Ambistoma Mexicanum perché infatti è originario del Messico e fin dall'antichità gli azzechi lo chiamavano appunto lo consideravano addirittura una sorta di divinità questo perché allora questa piccola salamandra che raggiunge una lunghezza massima di 28 cm è particolare perché ha sia la capacità di rigenerare parti del corpo mancanti riesce a riprodurle identiche appunto a quelle originali e inoltre riesce a rimanere anche nello stadio larvale anche per tutta la sua vita quindi rimane praticamente sempre nell'ambiente acquatico sotto forma ecco di una sorta di via di mezzo tra un girino e un individuo adulto questa particolare condizione si chiama neotenia questa capacità appunto di non crescere mai ecco e chiaramente se il suo ambiente acquatico dovesse diventare ostile magari ci sono dei predatori o magari è inquinato l'Axolot chiaramente può decidere di portare a termine la metamorfosi e quindi lascia il mondo acquatico per passare a quello terrestre ecco questo è un animale comunque vedete interessante è stato anche paragonato per le sue forme un pochino particolari a un pokemon dicono che si siano ispirati proprio a questo animale qua ho inserito un altro link appunto che ci fa vedere un attimino le caratteristiche dell'Axolot che il cui nome in realtà significa cane acquatico perché come vedete ha delle sembianze abbastanza anche che ricordano i nostri animali domestici è una specie purtroppo a rischio di estinzione e se ne trovano pochi esemplari ma appunto alcuni crescono anche in cattività ed è anche appunto oggetto di studio in quanto questa sua particolare capacità in grado di rigenerare parti del corpo potrebbe anche dare degli aiuti per quanto riguarda la medicina e la rigenerazione di parti del corpo anche umano ecco quindi sicuramente è un animale molto interessante la nostra lezione di oggi si conclude qua a presto, arrivederci